Ciao a tutte, oggi vediamo il mio inventario di metano per quanto riguarda sia make up che prodotti non make up Allora, ho deciso di vedere la differenza tra oggi, siamo al 9 di luglio, a giugno dell'anno scorso e poi vi parlerò di qualcosina anche per quanto riguarda l'inizio anno, perché non volevo guardare direttamente da oggi a inizio anno perché sono solo 6 mesi, penso si vede un po' di più la differenza durante il corso di 12 mesi Allora, cominciamo Primer viso Primer viso ne ho 3 L'anno scorso ne avevo 6 Questi qua li ho finiti tutti A inizio anno ne avevo uno solo, che era quello di Too Faced, Lengover Ne avevo uno solo e quindi questi qua sono tutti nuovi e ci sto lavorando Ho quasi finito, credo, Leng Wakes, Born to Glow Poi mi concentrerò sugli altri, che sono dei mini Poi, Primer occhi Ne ho 4 L'anno scorso ne avevo 5 e infatti ho finito la Urban Decay Primer Potion, che era in quel contenitorino piccolo lì A inizio anno ne avevo sempre 4 per qualche motivo, non so come mai ne avevo 4 a inizio anno Non lo so, però ne avevo 4 a quanto pare Fondotinta Fondotinta ne ho 4 L'anno scorso ne avevo 8 A inizio anno ne avevo 6 Allora, sto lavorando a quello di Kat Von D e a quello di Make Up For Ever E in più sto, quello di Make Up For Ever in polvere compatto E in più sto lavorando anche sulle palette di RCMA Il terzo colore, quello che sto usando adesso E potete vedere una bella differenza Ho finito un bel po' di cosine dell'anno scorso E anche la palette, si può notare che c'è Una differenza, direi Poi, correttori Ne ho 6, l'anno scorso ne avevo 4 A inizio anno ne avevo 3 Allora, sto lavorando a 2 di questi E il Dream Lumi, che è il terzo Scusate, sto lavorando su 3 di questi, i primi 3 E il Dream Lumi, che è il terzo della foto, le ho quasi finito Quindi fra poco dovrei sbarazzarmene Spray fissanti ne ho 1 E ne avevo 2 l'anno scorso Stavo finendo quello di Cover FX E dovevo ancora iniziare quello di Gerard Cosmetics A inizio anno ne avevo 1 Solo quello di Gerard Cosmetics, che ho finito Ciprie Ne ho 3 L'anno scorso ne avevo 2 E a inizio anno ne avevo 2 Ne ho aggiunta 1 E al momento non sto lavorando su queste Perché sto utilizzando il fondotinta di Make Up For Ever Compatto come cipria Blush in Crema Ne ho 1 Ne avevo 1 l'anno scorso E ne avevo 1 inizio anno Questo ho smesso di lavorarci Perché sto usando dei rossetti come Blush in Crema Al posto di usare questo Però non so, forse magari prima o poi mi impegno a finirlo Che almeno tolgo questa categoria Perché ci ho messo un casino di tempo a fare tutte queste foto Tutte queste foto per l'inventario Ho iniziato ieri sera E poi mi ci sono volute Altre 2-3 orette oggi Quindi Ma metti un 4 ore circa per fare tutte queste foto Mi ci sono volute Prodotti per sopracciglia Ne ho 3 Ne avevo 3 L'anno scorso Però è rimasto solo il cabrao di questi qui La matita E il gel sopracciglia Li ho finiti E ho comprato quest'anno il gel sopracciglia nuovo Di Benefit E ho l'altro gel per sopracciglia che non mi piace Sto cercando di finire A inizio anno ne avevamo sempre 3 Terre Ne ho 6 L'anno scorso ne avevo 6 Inizio anno ne avevo 6 Ho finito la seconda che vedete È la terra di Essence E l'ho finita E non ho acquistato nulla Ho solo spostato Questo prodotto di Max Factor Il secondo Che era tra i miei blush E lo considero più Una terra Quindi l'ho spostato In questa categoria Vediamo se vede Qualcuno Non si vede niente Sulla terra Le quali sto lavorando Che è la terza Non si vede assolutamente niente Ok Illuminanti Ne ho 5 Ne avevo 5 Allora E a inizio anno Ne avevo 4 Ne avevo 5 l'anno scorso Il primo che vedete in foto Era un illuminante cotto di Prestige Quello era quello che rimaneva A giugno dell'anno scorso E poi l'ho finito E ho iniziato ad utilizzare Quello di Mac Qui ne abbiamo ancora 5 Perché ho comprato Un illuminante di Becca Il Prosecco Pop L'ho comprato da poco E quindi Volevo prenderlo Prima che andasse Fuori produzione E quindi l'ho acquistato Ok Blush Ne ho 26 Ne avevo 25 A inizio anno Ne avevo 25 Allora Per quanto riguarda i blush Ne ho declatterato uno Il terzo della seconda fila Quello di Essence L'ho declatterato E invece il secondo Il terzo della seconda fila È giusto E invece il secondo Della terza fila È quello di Smashbook Che ho spostato Tra i miei bronzer Però Ho acquistato Ho acquistato Il 1,2,3,4,5 Il quinto Della seconda fila Mi è stato Regalato Il sesto Della prima fila E ho acquistato Il secondo Della terza fila E quindi Ne ho tre in più Ne avevo tre in meno Adesso ne ho Scusate Ne avevo due in meno In poche parole E adesso Ne ho tre in più E quindi siamo messi così Però si vede Il Pink Swoon Che sta utilizzando Il quinto Della prima riga Si vede Una notevole differenza Dalla prima foto E la seconda Face palettes Ne ho una Ne avevo una L'anno scorso Ne avevo una Inizio anno Non l'ho toccata ancora Non so se mettere La palette di RCMA In questa categoria Non ho ancora deciso Ogni volta ci penso Ma non ho ancora deciso Eyeliner Ne ho 12 Ne avevo 12 Ne ho finiti Due Ho finito il marrone Di Prestige E il super liner Di L'Oreal E me ne sono stati Regalati due Quello di BIS E l'altro Non vedo neanche Il marchio Qui I primi due Sulla seconda fila Diciamo E tra l'altro Il secondo Della seconda fila È doppio Da una parte Ha l'eliner liquido E dall'altra La matita Quindi l'ho inserito Anche sulle matite Si vede Quello di Prestige verde L'ho depottato E sto cercando Di finirlo Quindi speriamo Di finirlo Per fine anno Mascara Ne ho 5 Ne avevo 2 A inizio anno Ne avevo 5 Ho finito questi due Il D'Areal E quello di Milk Adesso sto utilizzando Il primo di Huda E il secondo Che è un primer Di Lancome E poi ho ancora Gli altri tre E niente Però ne ho finito Degli altri Forse nel frattempo Non mi ricordo No forse no L'ultimo che ho finito È stato quello di Milk Però sono tutti piccolini Quindi Non dovrei Metterci tantissimo Ombretti in crema Ne ho 7 E ne avevo 7 Però Si nota Una differenza Con il Jumbo Eyeshadow Pencil Di Ann Wakes E il Paint Pot Indian Wood Che è quello È il Secondo Pottino È il primo Della seconda riga Quello dorato Se notate Ci sto lavorando Non so se l'ho finito Per fine anno Però si vede Una bella differenza Anche sulle matite Almeno ho dei progressi Matite occhi Ne ho 5 Ne avevo 4 Ho inserito Questa di BAS Che è doppio Eyeliner liquido E matita E si può vedere La matita di Max Factor Che è la prima La prima a sinistra Alla quale sto lavorando Si può vedere che C'è Un po' di differenza Poi Rossetti In Bullet Ne ho 37 Ne avevo 35 Vediamo come l'ho messa Inizio anno Ne avevo 37 Allora Allora Dalla foto vecchia A quella nuova Si può notare Che il Avevo il taglia Che è il Forse Non so Se contarlo come secondo O primo di questa riga Però potete vedere Che ce n'era veramente poco Avevo il taglia Che ho finito E basta Mi sembra Che fosse stato L'unico Che ho finito E si può notare Quello di Yves Saint Laurent Che è quello Il quale sto lavorando Quest'anno Nella foto Di adesso Potete notare La differenza C'è una bella Differenza Credo Che i due Ne ho finito uno E me ne sono stati Regalati tre Quindi c'è quello In basso a destra Sull'ultima riga In basso a sinistra Sull'ultima riga Credo Se l'altro Quello sia In basso a destra E l'ultimo Sulla Prima fila Quei tre lì Mi li hanno regalati Poi Gloss Ne ho 14 E ne avevo 14 A inizio anno Ne avevo sempre 14 Ho finito Il primo Che vedete Su questa foto Il terzo E il quarto Quindi ne ho finiti tre Infatti in questa foto Non ci sono più Sto lavorando Al quarto In questa foto Però Ne ho Tre di nuovi Gli ultimi tre Della seconda fila Sono nuovi Rossetti liquidi Ne ho otto E ne avevo cinque Ho ancora Quei cinque E in più Se ne sono aggiunti Altri tre Sempre cose Che mi sono state regalate Ho comprato Credo Quest'anno Ho comprato Per il momento Il gel per sopracciglia Di Benefit I due blush Ho regalato uno Anche questa è una categoria Che vorrei eliminare Mattite labbra Ne ho due E ne avevo due Però quella di Kiko L'ho finita Mi rimane Quella di Charlotte Tilbury E ho quella O l'altra Le quale sto lavorando Quest'anno Che era completamente Nuova Ok Poi Palette Occhi Fare questa foto Ci ho messo una vita Palette Occhi Allora Ne Ho 24 Ne avevo 22 L'anno scorso E Erano 22 A inizio anno Cosa è cambiato Trovo le differenze Da una foto All'altra Di nuovo C'è La palette La palette La palette Di Charlotte Tilbury E Quella lì Con i 5 colori nude Di Becca Quelle sono Le due palettine nuove Ho Bucato 13 Ombretti E ho 5 pen Che sono Totalmente Ripuliti Ne ho 3 Qui Sulla Naked Si fa un po' fatica A vedere Quando zoom Invece L'anno scorso Avevo bucato 8 ombretti E avevo Solo 4 Pen Completamente Ripuliti Quindi Ho fatto dei progressi Per quanto riguarda Gli ombretti Anche se Non utilizzo sempre Non ho fatto Un pan dead palette Forse ho fatto Più progressi Quest'anno Dell'anno Che ho fatto Il pan dead palette E Si probabilmente Mi sto portando avanti Con il cestino Del mese Utilizzo un po' Qui un po' Là E anche non volendo Buco qualcosa In poche parole Ok Ombretti mono Ne ho 15 Ne avevo 14 Allora In realtà Questa è una bugia Che ne avevo 14 Perché in questa foto Manca Un ombrettino Della phase zero Se vedete Sulla terza riga Dopo quello rosso C'è un ombrettino Quadrato Ne ho due Così Però non lo trovavo Pensavo di essermelo inventata Di averne solo uno E invece Ne avevo due Ma non l'ho trovato Quando ho fatto La foto E quindi Non l'ho messo In inventario E in più Quello della prima riga L'ultimo a destra E quello lì L'ho declatterato Quindi adesso Come potete vedere Ne ho due Della phase zero E non c'è più Quel verde lì Quindi In realtà Sono A Meno uno Però Non importa Pigmenti Ne ho 22 E ne avevo 22 Non ho capito Bene come Perché In realtà Ho finito Il Mini pigmento Silver fog E quindi Non ho capito Perché Il numero è rimasto uguale Però Vabbè Ne avevo 22 E ne ho 22 Ok Questo è tutto Per quanto riguarda L'inventario Makeup Vi dico un po' Di numeri Allora L'anno scorso A giugno Avevo 209 Prodotti Makeup A inizio anno Ne avevo 199 Quindi ero scesa Di un bel po' Adesso Ne ho 217 Quindi Sono cresciuta Un po' E Mi impegnerò A finire il più possibile Prima della fine dell'anno E mi piacerebbe Rimanere Sotto i 200 Quello è il mio Goal Diciamo Ok Poi parliamo invece Di prodotti Non make up Bagno schiuma Ho un bagno schiuma E avevo Un bagno schiuma A inizio anno Ne avevo 3 Crema corpo Ne ho 2 Ne avevo 5 A inizio anno Ne avevo 3 Tanto quella di Dove È anche quasi finita Prodotti capelli Ne ho 12 Ne avevo 23 A inizio anno Ne avevo 18 Quindi qua C'è stato Una bella C'è una bella differenza Ho cercato di finire Un bel po' Di cose E Ovviamente Sto ancora Lavorando Delle cosine Tipo il balsamo Di Bumble and Bumble Quello gigante Ne ho meno di metà Ho un unico shampoo Che fra poco finirà Sto lavorando Alle goccine Della Schwartz Prof E a volte uso anche Il Freezees Quindi insomma Ci sto lavorando Poi Skincare Ne ho 13 Ne avevo 15 15 A inizio anno Ne avevo 13 Allora Tra una foto e l'altra Ci sono Non ci sono moltissime cose Che sono rimaste Tra l'altro Mi sono dimenticata Qui non ho messo i peciocchi Li ho messi Con le maschere Però di questa foto Mi è rimasto Il Pore Cleansing Oil Che non ne ho tantissima Mi è rimasto Mi sono rimasti I Detox Pads I patch occhi Il contorno E il contorno occhi Basta Il resto ho finito tutto Quindi queste qua Sono tutte robine nuove Che sto utilizzando Sto utilizzando ancora Il Cleansing Oil Sto utilizzando Il detergente viso Il corretto Il contorno occhi Il tonico Sto utilizzando anche Quello di Quello in stick nero Che vedete Di Daiso Lo scrub viso Le fragole Le ho quasi finito Quindi poi passerò A Detox Pads E sto utilizzando Anche Quella Neutrogena Deep Moisture Non ne ho tantissima La mia crema Diciamo Da giorno Ecco Quindi Le ho quasi Ho la maggior parte Di questi in utilizzo Maschere Ne ho 44 Ne avevo 20 Allora Di queste che avevo Mi è rimasta La seconda La Christmas Pad E vediamo Qualcosina Di quelle sotto Me ne sono rimaste Tre Di quelle della seconda riga E La seconda Maschera In tubetto Alla fine Quindi Mi sono rimaste Solo quelle lì Però Ho tutte queste qui E la maggior parte Sono Di quelle Cestino natalizio E Altre mi sono state regalate Non credo Forse ho comprato Solo Le Dell'ultima riga Non la prima Ma le seconda Le terza Le quarta Le quinta Le sesta Quelle lì Credo che ve le comprate Ecco Quindi sono tante Però vabbè Sono sheet mask Quindi durano Nel tempo Sono ben sigillate E mi rimane Solo una maschera Di quelle In tubettino Campioncini Campioncini E Formati mini Ho 21 Campioncini E 7 Formati mini L'anno scorso Ne avevo 20 Avevo 29 Campioncini E 8 Formati Mini A inizio A inizio anno Avevo 31 Campioncini E 22 Mini Quindi in realtà I mini Ne ho utilizzati Tantissimi Vediamo L'anno scorso Di questa foto Mi rimane Di mini Quello grigio Che vedete subito Dopo quello rosa La crema viso Di Clinique L'altra crema viso Di Tatcha E basta Mi rimangono Solo tre Di questi mini E ovviamente Di campioncini Invece ne ho ancora Che sono qui E Tra l'altro Adesso Credo di iniziare Ad usare Quello delle BioSans E Forse Non so se usare Già quello Della Time Wise Della Mary Kay Time Wise Oppure Spostarmi su Un prodotto Full Size Non sono ancora sicura E qui abbiamo Di campioncini Ma non sono tantissimi Quindi pensavo Di averne molti di più Ancora Quindi penso Che mi fermerò Un po' Ad usare questi Perché mi possono Tornare utili E E li porterò Con me in viaggio Profumi E questi Mi sono dimenticata Di metterli Qui Benissimo Profumi Ne ho tre E ne avevo tre Però ho finito Il gingham Ho finito Il primo Che era un altro Di button bodywork Se avevo L'armonicode L'armonicode Ce l'ho ancora Sto lavorando All'Eternity Che l'ho già Utilizzato Più di metà E poi ho Un mini Versace Che in realtà Ho spostato In un altro Coso con lo spray Perché era Una tragedia Utilizzarlo Da quel cosino lì Però l'ho tenuto Nel frattempo Perché è carino Ok Quindi Non ho conteggiato I profumi Purtroppo Che sono tre Quindi tenete Conto di quello Però ho conteggiato Tutto il resto Anche Campioncini E mini Per quanto riguarda Prodotti Non make up Ho un totale Aspettate Facciamo così L'anno scorso Avevo Un totale Di 101 prodotti A inizio anno Avevo un totale Di 107 prodotti Adesso Ho un totale Di 100 prodotti Quindi Decisamente Non male Voglio tenermi Su quel numero lì Probabilmente E E quindi Sì Diciamo che qui Sto andando Sto andando Abbastanza bene So che ho delle cose Che sto per finire Che dovrò Non so se Mi è venuto A sbattigliare Non so se Le sostituirò Perché Stiamo Ci avviciniamo Alle partenze Quindi non so Se Vediamo Quanto necessari Sono queste cose Che devo sostituire O aspettare Di arrivare A destinazione E E niente Per oggi È tutto Spero che questo Mio Invento No 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 Mi sono dimenticata Che quando ho fatto le foto Tra le altre cose Ho dimenticato un'altra cosa E anche questa Non le ho messe in conteggio Quindi no Cioè i conteggi di questi Sono sbagliatissimi Ok Ho le categorie random Della quale Mi dimentico sempre E Ho ben 13 prodotti Sulle categorie random Sulle categorie random Ho dei sali da bagno Del Borotalco Delle parire da bagno Degli scrub E Dei sali Per i piedi E Ne ho 13 L'anno scorso Ne avevo 9 L'anno scorso Ne avevo 9 E Ho finito Qualcosina Di queste cose Ho finito Lo scrub La crema armani La cremina Di Bars Bees L'altro L'ho dato Via Ho finito Tutte quelle Bot Bombs Nel contenitore E E ho finito Anche quelle due Bot Bombs Lì E vedete che ho finito Con le scrub Di Frank Body Ecco però Mi rimangono Tutte queste cosine Tante palline da bagno Erano parte Di quel premio Che abbiamo vinto Per Natalia Ecco Di soli E E E E E E E